Da recenti studi dell'azienda Curvet, leader in contrastato nel mercato del vetro curvo e produttore dell'85% dei vetri per box doccia in commercio, nasce Dr. Brill, il trattamento che rivoluzionerà il vostro modo di intendere il pulito. Con una sola applicazione di Dr. Brill, i vostri vetri e le vostre ceramiche brilleranno per anni, come nuovi. Sarete finalmente liberi dal pensiero delle pulizie. Dite addio a fatica e fastidiose perdite di tempo. Sorpresi? Dr. Brill agisce sulle superfici da trattare rendendole realmente lisce, ripristinandone l'originaria bellezza e preservandola inalterata nel tempo. Come? Eliminando le microscopiche porosità presenti sulla superficie del vetro e della ceramica, causa del sedimentarsi della sporcizia. Dr. Brill vi dà la possibilità di avere vetri sempre puliti, un'igiene antibatterica con un semplice gesto, senza sudore e senza fatica. Chiamate ora il numero verde in sovraimpressione per ricevere a casa vostra Dr. Brill, allo straordinario prezzo di 29 euro più spese di spedizione. All'interno della confezione troverete tre comodi flaconi da 120 ml 1 e tre pratici panni, che potrete utilizzare per trattare una superficie di ben 30 metri quadrati. Le gocce d'acqua scivoleranno via lasciando i vostri vetri e i vostri sanitari asciutti, senza loni né depositi di calcare, grazie all'effetto goccia di mercurio. Di più, scivolando, l'acqua trascinerà con sé tutto lo sporco, lasciando le superfici sempre perfettamente pulite. E allora stop con la fatica e la schiavitù delle pulizie. Con Dr. Brill potrete finalmente dedicarvi a tutto ciò che fino a ieri era solo un desiderio, perché è testato che i tempi impiegati per la pulizia si riducono fino al 90%. Usate Dr. Brill su vetri, box doccia, cristallo, parabrizza, sanitari. Proteggeteli dall'usura del tempo, dalle piogge acide, dai batteri e dallo sporco più difficile. Saranno sufficienti solo 29 euro per avere comodamente a casa vostra tre flaconi da 120 ml di Dr. Brill per trattare una superficie di ben 30 metri quadrati. Pensate, solo 29 euro per 30 metri quadrati di vero pulito. Non più detergenti, sgrassanti, brillantanti ed alcol, ma un solo prodotto. Dr. Brill. Mentre i normali prodotti per la pulizia vanno applicati con una periodicità variabile da 2 a 4 settimane, Dr. Brill è l'unico trattamento nel mercato italiano a garantire una straordinaria durata negli anni. E una riduzione del consumo di prodotti per la pulizia della casa significa rispetto per l'ambiente e diminuzione dei costi. Non perdete l'occasione di avere una casa sempre perfettamente pulita, senza alcuna fatica e con il 90% di tempo libero in più. Non perdete l'occasione di avere in casa Dr. Brill in una pratica confezione da tre flaconi e tre utili panni a soli 29 euro più spese di spedizione. Chiamate subito il numero verde in sovrimpressione perché Dr. Brill è la rivoluzione del pulito. Chiamate subito il numero verde in sovrimpressione del pulito in sovrimpressione del pulito. Chiamate subito il pulito in sovrimpressione del pulito in sovrimpressione del pulito.